C'è il rischio concreto che la chiesa di Piazza Sant'Agostino a Gela perda i frati agostiniani e dunque di conseguenza potrebbero perdersi anche le numerose tradizioni che interessano il presidio. L'allarme è stato lanciato da Nuccio Mule, cultore di patria e memoria e presidente della locale associazione dell'Archio Club. Gli agostiniani sono stati già trasferiti per mancanza di vocazione, per mancanza di frati. Di conseguenza loro stanno chiudendo tutta una serie di conventi agostiniani, in particolare, se non vado errato, quello di Gela e quello di Benevento, se non vado errato. Ovviamente i fedeli, che sono molto attaccati, ma non da tempo, addirittura agli albori di questa fratellanza agostiniana, non si rassegneranno a questa situazione e molto probabilmente andranno ad occupare la chiesa e il convento. Una cosa eccezionale e eclatante che solo così potrebbe convincere il padre generale che si trova a Roma a desistere da questo trasferimento. Mule ha già scritto a padre Luciano De Michieli, priore della provincia agostiniana d'Italia, e a padre Raimondo Franca Lanza, del convento San Marco dei Patri Agostiniani. Il priore, padre Francesco, qui è andato a Malta per capire se sono disponibili alcuni frati di Malta a essere trasferiti a Gela in modo tale da non perdere questo presidio religioso agostiniano. Voi avvierete anche una raccolta di firme? Ma arrivato a questo punto la raccolta di firme non ha quel valore che potrebbe avere in un contesto diverso. A mio modo di vedere l'idea dei fedeli di occupare la chiesa e il convento, un'occupazione che non sarebbe solamente simbolica, potrebbe far desistere il padre generale agostiniano di lasciare questo presidio agostiniano a Gela. Nulla vieta che le feste classiche che sono legate a questa chiesa, quella di San Giuseppe in particolare e quella di Santa Rita, si svolgono in maniera differente, non con quella enfasi e con quel seguito di fedeli che prima si poteva avere.